Saluto tutti i partecipanti, sono Marco Zupi, direttore scientifico del CESPI. Mi fa piacere ospitare oggi nel quadro di questi webinar che realizziamo all'interno del progetto Generazione Cooperazione che ha il sostegno dell'Agenzia Terranea di Cooperazione e Sviluppo, coordinata dalla FOCSIVE, che si iscrive all'interno di iniziative che vogliono contribuire a ragionare sul nuovo volto della cooperazione e lo sviluppo e la giornata di oggi si iscrive perfettamente dentro questo contesto perché come leggo dal titolo i due termini cooperazione territoriale e localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili rappresentano, ed è la domanda per i partecipanti, approcci innovativi nel campo delle politiche di cooperazione e lo sviluppo. Cosa le differenze? Entrambi puntano a rendere più efficaci e pertinenti le iniziative di sviluppo adattandole ai contesti locali, promuovendo sinergia ai diversi livelli istituzionali e territoriali. Quando si parla di genere di cooperazione territoriale si sottolinea l'importanza delle relazioni e sinergie tra i diversi territori, è un approccio che riconosce che i problemi di sviluppo per un verso possono superare i confini amministrativi coinvolgendo diversi territori, altre volte mettendo in relazione territori pur distanti che affrontano stesse sfide, alcuni termini collaborazione trasfrontaliera, rete di città, cooperazione interregionale, allo stesso modo localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, si riferisce al processo di adattamento, attuazione degli obiettivi stessi in una dimensione locale, riconoscendo che le realtà locali hanno caratteristiche, risorse, bisogni specifici che devono essere presi in considerazione per rendere efficaci le politiche di sviluppo, quindi adattamento alle esigenze locali, partecipazione delle comunità, rafforzamento delle capacità locali oltre che delle risorse finanziarie. Non sono mutuamente esclusive, forse complementari, cooperazione territoriale e localizzazione degli Stigis. Per parlare di tutto questo appunto oggi ringrazio in particolare Anto Puleo che sarà il primo a intervenire, raccontandoci visto che è dell'autorità di gestione del programma MED dell'Unione Europea come strumento per la cooperazione nel bacino del Mediterraneo e quindi cooperazione transnazionale. Seguirà Pietro Ceppi che invece è asset expert delle Nazioni Unite, in particolare di UN Habitat, è focalizzato, il suo lavoro è proprio sulla localizzazione degli SDGs, quindi spostandoci da una dimensione europea quella delle organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, raccontandoci della domanda che rivolgo a loro, le peculiarità, le caratteristiche e cercando di rispondere anche a come si relazionano questi approcci al tema e alle modalità prevalenti della politica di cooperazione e lo sviluppo. Poi aiuteranno a ragionare sullo stesso argomento, a seguire Giovanni Camilleri, attualmente docente all'Università degli Studi dell'Insubria, ma che ha una vasta esperienza nel campo delle Nazioni Unite, sempre sul tema specifico della cooperazione territoriale, avendo gestito il programma ART UNDP sul tema, e Raffaella Coletti, che è ricercatrice di un istituto del CNR, quello di studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie, che a sua volta ha dedicato buona parte della riflessione e della ricerca nel corso degli ultimi anni su questo tema. Quindi io, dando la parola per primo ad Aldo, sapendo che utilizzerà delle slide, l'unica raccomandazione è quella di cercare di rimanere nei 20 minuti, perché idealmente abbiamo 20 minuti dei primi due interventi, 10 minuti delle considerazioni aggiuntive dei due interventi programmati e l'ultima mezz'ora, scusate, per far intervenire chi partecipa. Grazie a te, la parola Aldo, e se puoi proiettare le slide. Grazie Marco, intanzitutto ringrazio il Cespi, ma ringrazio tutto Marco per averci invitato a condividere con voi quella che è l'esperienza del nostro programma, nel frattempo inizio a condividere lo schermo e chiederò conferma di... vedete, sì? Faccio un tentativo giusto di cambiare slide, vedete ha cambiato slide? Perfetto, ottimo. Ringrazio appunto Marco per due motivi, in particolar modo per averci invitato, ma soprattutto anche perché è un modo per rincontrarci, perché come alcuni di voi sapranno, o meglio, forse non lo sapete, ma alcuni partecipanti sono coinvolti. Marco è stato anche mio docente ad un master di cooperazione ormai vent'anni fa, più di vent'anni fa, e quindi è un modo anche molto carino per rincontrarsi, fare qualcosa insieme. Dunque, il tema di oggi è una breve descrizione di quello che fa il programma Interreg NextMed, ovvero un programma di cooperazione cofinanziato prevalentemente ovviamente con fondi dell'Unione Europea, che si occupa sostanzialmente di cooperazione multinazionale, quindi nel senso multilaterale, chiamiamola un po' così, termine tecnico è trasnazionale, nei paesi del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo. È un programma che è giunto alla terza edizione, quindi il programma 21-27, Interreg NextMed, è sostanzialmente il proseguo, la terza edizione di due programmi, cicli di programmazione precedenti, il programma ENI-CBC-Med 2014-2020, che ha adesso chiuso, comunque in chiusura delle attività, che ha finanziato 80 progetti, e il programma dell'edizione 2007-2013, chiamato MPC-BC-Med, European Neighborhood Partnership Instrument, con 95 progetti. Abbiamo coinvolto circa 1300 organizzazioni provenienti dai paesi partecipanti e oltre 400 milioni di progetti finanziati, ovviamente in questi due cicli di programmazione. Il programma diciamo che si inserisce nel quadro della politica di vicinato, quindi presenta quelli che sono gli obiettivi della politica di vicinato, o meglio il perseguimento di quegli obiettivi della politica di vicinato, che sono appunto la creazione di un'area di prosperità del vicinato, di stabilità e sicurezza con i paesi che sostanzialmente condividono con noi il bacino del Mediterraneo. I principi chiave per noi sono la co-ownership, mi piace lasciare il termine in inglese perché in italiano non rende la co-appropriazione un po' meglio in inglese, secondo me. Mi scuso, le slide sono in inglese ma è lingua di lavoro del programma, ma ovviamente la narrazione la faccio in italiano, ovviamente. Quindi un'appropriazione congiunta sia dei risultati del programma tra tutti i paesi partecipanti, sia ovviamente una partecipazione attiva e bilanciata, basata sul principio di uguaglianza dei paesi che partecipano al nostro programma. Va da sé che le sfide sono sfide comuni e i benefici sono comuni, ma noi cerchiamo ovviamente di dare un contributo a quello che è il dialogo tra gli attori del territorio che operano nei paesi che condividono queste sfide. Cosa abbiamo fatto molto velocemente nel 14-20 perché voglio focalizzarmi soprattutto sul 21-27? Degli 80 progetti che abbiamo finanziato, 24 sul business, 17 sull'innovazione, 14 sull'inclusione sociale e 25 su tematiche ambientali che sono ovviamente quelle che vedete sotto. Abbiamo coinvolto in questi paesi 616 organizzazioni attraverso dei partenariati multirivello, multirivello perché una delle caratteristiche, delle peculiarità di questi progetti è quello che noi finanziamo, progetti dove ci deve essere un numero minimo di organizzazioni provenienti da un numero minimo di paesi diversi, di cui almeno uno sponda sud o almeno uno sponda nord. La tipologia di attori, noi abbiamo partenariati molto vari che ovviamente a seconda anche delle tematiche abbiamo delle composizioni che vedono ovviamente pubbliche amministrazioni, abbiamo un no profit molto molto ampio in termini di partecipazione dei nostri progetti, stiamo parlando del 37% dei 616 attori che sono stati coinvolti negli 80 progetti, abbiamo amministrazioni centrali o comunque nazionali, 14%, abbiamo anche amministrazioni locali e regionali, 12% e operatori privati che diciamo occupano un 9%, ovviamente un 1% residuale alle organizzazioni internazionali dato che comunque diciamo che hanno il vincolo di dover avere degli uffici operativi in queste regioni, quindi anche questo conta. Un esempio concreto di quello che facciamo, ecco vorrei condividere con voi un esempio di un progetto che è stato molto apprezzato anche in termini risultati, che è un progetto che si chiama Stand Up, che è un progetto che riguarda soprattutto il settore tessile e che ha creato sostanzialmente un network per lo sviluppo di imprese nel settore dell'economia circolare nel Mediterraneo. Il capofila è la Catalan Waste Agency spagnola, quindi un'agenzia pubblica diciamo, e poi abbiamo come paesi coinvolti la Spagna e Libano, l'Egitto, la Tunisia e l'Italia. Andiamo a vedere che cosa hanno creato. Hanno creato 400 diciamo, sto semplicemente spostando il cursore perché mi occludeva la visuale della slide, scusate, 400 diciamo entrepreneurship che sono stati formati con circa il 50% di donne e giovani. Sono stati distribuiti 50 Eco Innovation Boucher perché una delle diciamo peculiarità del programma 14-20 che purtroppo non sarà più possibile utilizzare nel 21-27 è il fatto che i nostri progetti potessero dare dei piccoli grant, dei piccoli finanziamenti anche a persone fisiche e questo ci ha consentito anche di creare, di dare la possibilità a giovani start-upper di iniziare appunto delle proprie attività di impresa anche con fondi abbastanza diciamo modesti, 20-30 mila euro. Questo purtroppo non sarà possibile ma è possibile coinvolgerli in altro modo anche nel nuovo ciclo di programmazione. Abbiamo creato tre National Policy Papers sul, diciamo, sul tessile sostenibile, chiamiamolo così, per creare delle roadmap a livello di utilizzazione di questi, riutilizzazione di questi tessuti, diciamo. E abbiamo anche questo progetto ha creato appunto un Open Innovation Platform che è una sorta di meccanismo che consente attori pubblici e privati, quindi istituzioni, di, diciamo, cercare di un motore di ricerca che offre sostanzialmente un matching di soluzioni, diciamo, business sulla economia circolare, mettendo appunto in contatto gli operatori pubblici che cercano appunto di sviluppare queste soluzioni con i privati che possono realizzarle. E poi ovviamente un network di potenziali investitori nel Mediterraneo su questo settore. Vi invito, ed è una cosa che abbiamo fatto di recente, a visitare il link che vedete in presentazione, poi ve lo condividerò con Marco le slide che verranno, potranno essere messe a disposizione i partecipanti. Vi invito a visitare questo, diciamo, questa pagina che poi abbiamo creato anche sui social del programma, dove abbiamo messo in evidenza i risultati di tutti gli 80 progetti. Il nostro sito contiene, tra l'altro, in peculiarità, i siti di ogni progetto e questo sostanzialmente consente anche a voi di poter avere una mappatura sia di quelli che sono stati i progetti finanziati, sia di poter verificare quali sono stati i risultati raggiunti e soprattutto gli output più interessanti che sono stati, diciamo, sviluppati dagli 80 progetti. Ma andiamo ad Interreg NextMed. Come vi dicevo, mi vorrei concentrare più su questo perché appunto è un programma attuale che è partito appunto l'anno scorso. È il programma più grande in termini di cooperazione trasnazionale finanziato attraverso lo strumento Interreg. Questa è una delle principali novità, cioè prima eravamo in un contesto di vicinato puro, adesso siamo entrati nella grande famiglia Interreg, nonostante la composizione dei nostri fondi sia comunque prevalentemente fondi dedicati appunto allo sviluppo e quindi sostanzialmente provenienti dallo strumento Indichi, così chiamato, della Commissione. Abbiamo 15 paesi che partecipano rispetto al programma precedente due paesi nuovi, Algeria e Turchia. I paesi devono firmare degli accordi di finanziamento, hanno firmato i paesi partner, ovviamente i paesi europei no perché sono già vincolati dai regolamenti che sostanzialmente sono degli accordi internazionali dove vengono trasposti gli obblighi che invece vincolano direttamente i paesi membri che partecipano al programma. Hanno firmato tutti, tranne Israele che è alle battute finali, speriamo di riuscire ad arrivare alla firma entro la fine del mese che è anche la scadenza per poter firmare l'accordo. 90 sono i territori elegibili, quindi chi fosse interessato per esempio per quanto riguarda l'Italia, occhio perché le regioni che sono elegibili sul programma sono solo le regioni che vedete in blu. Circa 200 milioni è ovviamente la popolazione che vive in queste regioni. Le priorità del programma. Quattro priorità che fanno parte della strategia del programma, ovviamente una priorità, uno che hanno un po' tutti i programmi Interreg che riguarda sostanzialmente lo sviluppo della competitività del Mediterraneo con due obiettivi specifici che riguardano la ricerca e innovazione, lo sviluppo, la crescita della competitività e le piccole e medie imprese e creazione di posti di lavoro. Seconda priorità che pesa parecchio perché pesa per il 42% del budget, il budget complessivo del programma è di 263 milioni di euro di cui 239 milioni è dedicato al finanziamento dei progetti, quindi 100 milioni è dedicato alla priorità 2 che è la priorità ambientale articolata in quattro obiettivi specifici, efficientamento energetico, adattamento al cambio climatico, accesso e gestione dell'acqua e transizione verso un'economia circolare. Priorità 3 è la priorità sociale, così chiamata, un Mediterraneo più sociale e più inclusivo, con due priorità, una già sperimentata anche nella programmazione 4G20 che riguarda l'accesso ai servizi di qualità che riguardano sia la formazione che il training e il lifelong learning, è una priorità abbastanza nuova, un obiettivo specifico molto nuovo che è stato dovuto un po' anche alla pandemia, che è appunto l'accesso ai sistemi praticamente sanitari, inclusi praticamente le cure primarie, che costituisce un po' una scommessa perché appunto, come dicevo prima, è uno degli obiettivi che non avevamo nella programmazione precedente. Infine un obiettivo specifico interreg, chiamato Better Cooperation Governance nel Mediterraneo, che è un obiettivo che noi abbiamo interpretato nel senso di mettere in relazione attori del territorio con istituzioni che lavorano a livello locale proprio per creare e per far partecipare gli attori del territorio alla diciamo alla predisposizione di modelli di governance che possono ovviamente avere ricadute immediate appunto sui cittadini che abitano quei territori. È un obiettivo anche questo nuovo, c'è stato sostanzialmente imposto nel senso che comunque fa parte del pacchetto interreg per i programmi transnazionali. Abbiamo dato poco budget a questo, quindi solo l'8% di 249 milioni di euro, anche perché anche questo costituisce sostanzialmente una novità. Quattro sono i bandi che lancerà il programma, uno è stato lanciato a dicembre dell'anno scorso, è stato chiuso adesso nel 2024, vi presenterò brevemente i risultati, 103 milioni di euro messi a disposizione dei fondi comunitari. Un secondo bando che verrà lanciato nel 2024 dove diciamo allocheremo 84 ma stiamo portando avanti una proposta da incremento a quasi 90 milioni di euro che avrà come tema la transizione verde. Un terzo bando sulla capitalizzazione, i progetti di capitalizzazione sono dei progetti che abbiamo già finanziato nel 14-20 che mirano sostanzialmente a massimizzare, capitalizzare i risultati di progetti ottenuti dai progetti nei bandi precedenti piuttosto che nell'ambito di altri programmi che lavorano sullo stesso spazio di cooperazione che quindi diciamo costituisce un modo per sviluppare le sinergie e massimizzare l'impatto dei risultati anche diciamo di progetti che non sono stati finanziati nell'ambito di questo programma nel nostro spazio di cooperazione. È un ultimo bando che sarà un bando residuale da 11 milioni di euro che avrà diciamo l'obiettivo di consolidare i risultati dei progetti NextMed, quindi diciamo dedicato esclusivamente ai progetti NextMed, ma prendetelo ovviamente come una indicazione perché poi il Comitato di Sorveglianza che è l'organo che gestisce, che rappresenta tutti e 15 paesi e che prende le decisioni sui fondi da allocare, sui criteri di selezione e quindi sulla tipologia dei progetti che vengono messi a bando, quindi diciamo che al momento questa è diciamo la nostra roadmap, ma dovrà ovviamente poi essere validata volta per volta al Comitato di Sorveglianza. Primo bando molto velocemente perché con se vi sottolineo quali sono gli obiettivi. Innanzitutto è un bando che è stato aperto a tutte le quattro priorità e i nove obiettivi specifici che ho presentato prima, 103 milioni di euro, molto importante. Noi diamo un cofinanziamento molto generoso, noi copriamo l'89% del costo totale di progetto con fondi del programma e eroghiamo un prefinanziamento di circa il 20% per questa programmazione alla firma del contratto, che è un qualcosa che interessa molto a chi partecipano ai nostri bandi. Quindi richiediamo da parte dei progetti di mettere un cofinanziamento pari all'11% che può essere coperto in risorse umane o in risorse proprie, quindi valorizzando sostanzialmente quelli che sono gli stipendi dei dipendenti delle organizzazioni o degli enti che partecipano. Come dicevo prima, per il primo bando abbiamo sperimentato tre tipologie di progetti, tematici, orientati ai giovani e di governance, ne parlerò tra un secondo, ma la cosa fondamentale, come dicevo prima, è la composizione multilivello dei partenariati che devono essere rappresentativi sia delle diverse componenti che vogliono insistere appunto sul tema che viene sviluppato e che quindi sostanzialmente mette insieme anche partenariati pubblici privati per testare per esempio da un punto di vista pratico soluzioni che vengono sviluppate da un punto di vista di ricerca, per esempio da enti di ricerca. E in particolar modo noi abbiamo come requisito minimo la partecipazione, devono essere coinvolte tre organizzazioni diverse, provenienti da tre paesi diversi, di cui uno almeno sponda nord e uno almeno sponda sud. Un progetto deve essere comunque focalizzato solo su un obiettivo. Tipologie di progetti, giusto per dirvi quello che poi mi collegherò appunto con la... vado a chiudere perché ho cinque minuti, con quella che sarà la proposta che proveremo probabilmente a metà luglio adesso il prossimo comitato di sorveglianza. Nel primo bando abbiamo previsto tre tipologie di progetti con tre dimensioni finanziarie diverse, progetti tematici, progetti invece che volevano coinvolgere i giovani dove noi abbiamo reso obbligatorio il coinvolgimento nel partenariato, quindi un coinvolgimento attivo diciamo di associazioni o organizzazioni che lavorano con i giovani o che abbiano nei componenti del consiglio d'amministrazione una maggioranza dei soci giovani, cioè sotto i 30 anni così come definiti dalla Commissione Europea. I progetti di governance sono sostanzialmente i progetti che insistono su quell'obiettivo ISO di cui parlavo prima, Better Governance, che aveva una dimensione tra un milione e un milione e tre e quindi sostanzialmente i progetti un po' più piccolini ma perché ovviamente sono progetti che mirano a sviluppare governance. Cosa abbiamo ottenuto? 631 i progetti presentati, 3930 sono state, sono gli attori coinvolti in questi 631 i progetti presentati, i progetti sono in valutazione adesso quindi non ho dati su quello che andremo a finanziare in questo momento perché il bando è stato chiuso il 30 maggio, 1.3 miliardi di euro è il contributo richiesto da questi 631. Come vedete è una domanda pari a 12 volte, quasi 13 volte quello che noi abbiamo messo a bando, abbiamo messo a bando 103 milioni di euro. La maggior parte dei progetti sono stati tematici, giovani 25, un po' pochi e proveremo a rinforzare questo nel secondo bando, e governance 38. Dove sono stati presentati i progetti? Sicuramente education and training è stata anche la priorità più gettonata sui 25 progetti sui giovani, è stato il diciamo il tema più gettonato, poi abbiamo ovviamente competitività in piccole e medie imprese ma anche climate change e energy efficiency che sono stati dei temi molto molto gettonati. Poco sono stati water management, ovviamente la salute, ma ce l'aspettavamo, è un tema nuovo, per cui sostanzialmente un po' in linea con quelle che sono le distribuzioni da priorità che ho mostrato prima nella slide della strategia. Numero di organizzazioni per paese, poi potrete vedere, mi soffermo solo sul dato italiano, abbiamo 171 capofila, quindi 171 progetti presentati da organizzazioni italiane, 498 è il totale invece dei partner italiani coinvolti nei progetti, più ovviamente i 171, quindi un totale di quasi 600 attori italiani hanno partecipato in questi 631 progetti presentati. 53% degli attori proviene dai paesi sponda sud, abbiamo un meccanismo che proprio cerca di salvaguardare il bilanciamento tra le due sponde e questo si vede evidentemente nella composizione dei partenariati, 53 sud, 43 nord. Composizione un po' in linea con quello che abbiamo nei progetti finanziati nel 14-20, un 30% pubblici, chiamiamoli così, settore no profit 27% e poi abbiamo ovviamente anche una crescita, se vogliamo, anche del settore privato pari al 13% è un po' diminuito invece la parte appunto riguardante le amministrazioni centrali. Andiamo a vedere un dato interessante, questo è sostanzialmente la richiesta di fondi rispetto a quello che noi abbiamo messo a bando, per esempio sulla competitività e piccole e medie imprese noi abbiamo messo a bando 18 milioni di euro in questo primo bando, sono stati richiesti 219 milioni di euro, quindi 12 volte quello che noi abbiamo messo a disposizione, per la education and training 15 milioni di euro, 206 sono i fondi richiesti, pari a 14 volte, climate change addirittura 18 volte i fondi disponibili. L'ultima slide ho finito, sono nell'ambito dei 20 minuti, Marco, cosa abbiamo in mente per la call sulla green transition? Allora, innanzitutto abbiamo fatto una consultazione pubblica sulle priorità più rilevanti per la green transition. Diciamo che i dati che abbiamo avuto, ve lo anticipo perché sono ancora appunto dati che non abbiamo ancora presentato ai paesi, ma vi do un'anticipazione, sostanzialmente riflettono quella che sono la distribuzione tra le priorità di programma, cioè gli attori consultati considerano molto rilevante per esempio il tema dell'acqua, nonostante ecco, da un punto di vista di evidenza avete visto i progetti sull'acqua non sono tantissimi, il tema dell'energia, dell'efficientamento energetico e soprattutto climate change sono i temi più gettonati, ma anche i temi economici rimangono gettonati, per cui anche noi pensavamo la priorità sulla salute non interessante in tema green, in versione green, invece dalla consultazione emerge un interesse chiave green anche dei servizi della salute. Questo tradotto in termini operativi vuol dire che il secondo bando noi proporremo ai paesi partecipanti, quindi al comitale di sorveglianza, di aprirlo sempre per tutte e nuove le priorità. Il budget della call, come vi dicevo prima, cercheremo di aumentarlo per arrivare a circa 90 milioni di euro. Ovviamente per noi rimane prioritario cercare di rafforzare il partenariato pubblico privato, quindi dare un forte impulso all'innovazione, al training e alla formazione. Investiremo ancora di più sulla nuove generazioni perché secondo noi rimangono chiave per soprattutto un tema di transizione verde, per cui amplieremo molto probabilmente la dimensione finanziaria dei progetti giovani, quindi passando da un minimo di 500 mila euro probabilmente arriveremo ad allinearli ai progetti di governance, quindi circa un milione e cento minimo di contributo. Come dicevo prima, le decisioni sono rimandate a metà luglio, quindi avrete la possibilità di vedere, perché noi pubblichiamo un resoconto di quello che viene deciso al comitale di sorveglianza sul nostro sito Interregnexmed dopo il comitato. Mi fermo qui, un minuto di ritardo, perdonami Marco, ma più o meno sono stato nei venti. Perfetto, grazie, grazie per le numerose informazioni relative al recente passato, attualità e anche sguardo sul futuro, cooperazione interregionale. Do subito la parola, senza aggiungere altro, a Pietro Ceppi, localizzazione degli SDGs, Nazioni Unite, uno sguardo complementare. Grazie a te, anche tu le slide. Grazie Marco e grazie anche Aldo per la presentazione, è molto interessante. Allora, slide sono... Riuscite a vederle? Sì? Perfetto, grazie. Perfetto. Allora, mi scuso in anticipo per l'italiano, perché sono abituato a lavorare, come Marco sa bene, in inglese e ho cercato anche di tradurre la presentazione, però diciamo è ancora un mix tra italiano ed inglese. Oggi parlerò di SDG localization, localizzazione degli SDGs. Vorrei iniziare con una slide di, diciamo, contesto globale sull'implementazione degli obiettivi. Solamente il 12% degli SDGs sono stati raggiunti, questi sono dati del 2023, quindi molto recenti, a causa chiaramente delle recenti guerre, crisi climatica che avanza e altre, diciamo, crisi globali, la pandemia appena passata. Quindi alcuni dati, ci sono ancora più di 2 miliardi di persone senza accesso all'acqua potabile, circa quasi 2 miliardi di persone che non hanno accesso ai servizi genici. Le disuguaglianze fra paesi sono aumentate nell'ultima generazione e ad esempio un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato annualmente e c'è ancora un deficit per il finanziamento degli SDGs a livello di paesi in via di sviluppo di circa 4 trilioni, che corrisponde quasi ai trilioni che vengono persi in corruzione e perdita di fondi pubblici sempre a livello globale. Questi dati quindi mostrano che gli SDGs, l'implementazione degli obiettivi, è molto a me in ritardo e non on track. In questo diciamo contesto, un'altra cosa che emerge, che secondo me è molto importante, è il fatto che il 65% dei target degli SDGs può essere raggiunto solamente con il coinvolgimento e la collaborazione dei governi locali e regionali e anche della società civile, aggiungerei. Questo chiaramente entra in conflitto con il fatto che ci sono dei gap, delle debolezze a livello locale, nelle capacità dei governi locali e regionali, nelle risorse tecniche, finanziarie, umane a loro disposizione. E diciamo su questo rational, su questa logica si basa l'approccio alla localizzazione. La localizzazione degli SDGs, SDGs localization, è un processo che cerca di portare gli SDGs a livello locale, in coerenza con i framework nazionali e le priorità delle comunità locali. È un processo che cerca di rafforzare la governance di multilivello, diciamo, sia nazionale che locale e si basa su tre principi fondamentali che sono quelle di partecipazione e inclusione, soprattutto anche della società civile, delle comunità, appunto la governance multilivello, la coerenza e l'allineamento delle varie politiche pubbliche, sovranazionali, nazionali e locali, e una componente che dovrebbe essere la più forte di rafforzamento delle capacità, capacity building e learning. Quindi, basandosi su questi principi, la localizzazione cerca di influenzare varie pratiche e tematiche di gestione e di governance delle città, quali la pianificazione, la raccolta dati, il budget e le finanze ai fondi pubblici e le politiche pubbliche, tra le altre, per arrivare ad avere delle azioni ad alto impatto e trasformative per le realtà locali, che però abbiano anche un riscontro a livello nazionale e comunque anche a livello internazionale, appunto, per il raggiungimento degli SDGs. Per farvi più o meno capire cosa può rientrare, cosa è parte di localization e SDGs, localization, ho raccolto alcune buone pratiche, diciamo, da alcune città con cui abbiamo lavorato, con cui lavoriamo, alcuni esempi, la digitalizzazione, per esempio, della governance della città di Nakuro in Kenya, dopo lo sviluppo, o durante lo sviluppo della VLR, di cui parlerò più tardi. Un'altra buona pratica è la creazione di workshop per sensibilizzare lo staff delle autorità locali su alcuni concetti come gender equality, per esempio, o gender mainstreaming, o ad esempio l'inclusione di comunità marginalizzate nel processo sempre di VLR e di politica. pubblica della città di Nakuro in Tunisia. Altri esempi, la creazione di politiche pubbliche nello stato del Parà, in Brasile, su cambiamenti climatici, su specifici obiettivi, target degli SDGs, o il gemellaggio tra le città di Muanza in Tanzania e Tampere in Finlandia, sempre per rafforzare i processi pubblici, di governance per la localizzazione degli SDGs. Tornando a UN Habitat, l'organizzazione per cui lavoro, UN Habitat ha un mandato dato dai stati membri per lavorare su localizzazione. ci sono alcuni documenti e momenti chiave su cui, diciamo, questo lavoro su localizzazione è stato dichiarato come prioritario e poi dato come mandato a UN Habitat. uno di questi è la decisione dell'executive board di UN Habitat del 2021 di lavorare su localizzazione, la risoluzione della UN Habitat Assembly del 2023, co-sponsored da Argentina, Botswana, Brasile, Cile e altri paesi li presenti, tra cui l'Italia. e la più importante forse e la più recente è quella della presidenza italiana del G7 che ha anche incluso nei vari working groups, per esempio in quello su dei ministeri dell'ambiente, nel comuniche politico, una paragrafo, due paragrafi su ruolo delle città, il ruolo dei governi locali e nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e, diciamo, anche rafforzare il mandato di UN Habitat in questo senso. Il team per cui lavoro, che è l'SDG Localization and Local Government Team di UN Habitat, è il team che coordina il lavoro su SDG Localization a livello globale dai quartieri generali di UN Habitat a Nairobi. e fornisce supporto anche agli hub e agli uffici regionali e nazionali su processi e progetti legati a localizzazione e coordina anche la parte di impegno ad vocasi politica di UN Habitat su localizzazione insieme ai governi locali e regionali, ai governi nazionali e anche alle associazioni della società civile e alle associazioni dei governi locali, come ad esempio UCLG. In questi anni è stato elaborato questo, diciamo, approccio alla localizzazione da parte di UN Habitat. Oggi mi concentrerò, che va chiaramente a una parte di dati e una parte di monitoraggio con lo strumento delle VLR, delle Voluntary Local Reviews. SDG Cities, che è un flagship program e si concentra anche più sulla parte di pianificazione, finanziamento e implementazione della localizzazione, di attività di localizzazione. La parte di analisi della governance multilivello e anche la Local 2030 Coalition, che è una coalizione, un'iniziativa delle Nazioni Unite, che è chaired da UN Habitat. Oggi mi concentrerò, per il tempo, diciamo, sulla parte delle Voluntary Local Reviews e della Multilevel Governance e anche del Local 2030. Riguardo alle Voluntary Local Reviews, è lo strumento, penso, principale implementato da UN Habitat per, diciamo, esportare e disseminare il concetto di localizzazione. È un processo di valutazione partecipativa che viene portato avanti volontariamente dai governi delle città, dai governi locali, con l'assistenza tecnica degli UN Habitat e il coinvolgimento di vari stakeholder che passano da, appunto, da ministeri, settore privato, università, organizzazioni non governative, società civile. Serve a capire a che punto è l'implementazione dei target degli SDGs a livello della città, della città metropolitana, insomma, può essere applicata a vari livelli. Dal 2016 ad oggi sono state sviluppate circa 250 VLARS, probabilmente ad oggi anche di più, coinvolgendo circa 194 governi locali e regionali e in almeno 50 paesi. Vorrei concentrarmi e parlarvi oggi del caso della Voluntary Local Review di Muanza in Tanzania, di cui ho parlato anche prima per la parte di gemellaggio. È un caso emblematico anche per il coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni non governative, per questo ho pensato potesse essere interessante. La Voluntary Local Review di Muanza partiva da, diciamo, un problema da risolvere che era quello della mancanza di dati a livello locale, su cui anche impostare la VLARS. Quindi è partita con un processo di consultazione di stakeholder molto ampio e molto esteso che ha coinvolto 47 stakeholder tra ministeri, governi locali e dipartimenti locali, le università, ma anche le organizzazioni e la società civile. Questo processo di raccolta dati è stato completato con le consultazioni delle comunità locali, con circa 200 residenti coinvolti in interviste appunto per dati qualitativi. Questo, diciamo, processo dal basso verso l'alto è poi servito anche a collegare la VLARS, la Voluntary Local Review di Muanza, con la Voluntary National Review, sviluppata dalla Tanzania nell'anno passato, e che ha quindi creato anche un processo di allineamento e governance multilivello, come di cui parlavo prima, tra la città e il livello nazionale, che ha portato anche ad esempio ad avere le priorità della città di Muanza riconosciute a livello della Tanzania intera. Ultimamente, recentemente, abbiamo lanciato nel team a Yon Habitat anche una nuova metodologia che è la Action Oriented Voluntary Local Reviews. Diciamo, prima di tutto volevamo dare una specie di sistematizzazione alle Voluntary Local Reviews, che fino ad ora erano delle esperienze quasi uniche, non c'era un vero e proprio, diciamo, template per la Voluntary Local Reviews, quindi qualsiasi governo locale la interpretava un po' in modo diverso, usando solo alcuni SDGs o altri, mentre questo processo ha dato vita a una metodologia, metodizzazione del processo. E questo ci permette anche, appunto, essendo Action Oriented, di andare oltre il monitoraggio dello stato degli SDGs nella città, ma di pensare poi a cosa fare dopo, quindi alla pianificazione strategica, alle raccomandazioni per il governo locale, ma anche per il governo nazionale, in un collegamento che può portare alla creazione delle iniziative nazionali per la localizzazione degli SDGs che coinvolgano più città. Riguardo alla multilevel governance o governance multilivello, la governance multilivello serve a, diciamo, collegare e allineare le priorità nazionali e ha le priorità anche locali e viceversa. È un processo, un approccio, un'analisi, una metodologia di analisi che serve soprattutto a, appunto, dare maggiore coerenza alle politiche pubbliche, accelerare la localizzazione degli SDGs, ma anche, per esempio, rompere i silos, la divisione tra vari ministeri, per esempio, e creare gruppi interministeriali o interdepartimenti tra vari dipartimenti per lavorare insieme con degli obiettivi comuni. Le aree chiave di analisi dell'approccio alla governance multilivello sono un'integrazione verticale, appunto, tra vari livelli di governo, un'integrazione orizzontale che può essere, appunto, tra vari settori, vari ministeri, anche vari dipartimenti a livello cittadino e un coinvolgimento dei stakeholder della società civile, del settore privato. Alcune, una cosa in cui mi sono dimenticato di parlare prima, è che c'è un report di ricerca sviluppato dal team che è sul multilevel governance per la localizzazione degli SDGs che ha portato a creare un'analisi e delle raccomandazioni per i governi sulle fasi della creazione delle politiche pubbliche. Ad esempio, a livello di political commitment, per esempio, fare in modo che ci siano le consultazioni con organizzazioni della società civile a livello governativo o anche, per esempio, creare dei meccanismi per cui i governi locali possano partecipare nelle decisioni politiche nazionali. A livello di implementazione, chiaramente, la provvisione di rafforzamento delle capacità, corsi, training e anche l'implementazione di politiche di governo digitale che creino più trasparenza e da un punto di vista di monitoraggio, ad esempio, il coinvolgimento di dipartimenti di statistica nazionali che possano però lavorare con le città per la disaggregazione dei dati anche a livello locale. La localizzazione è un fenomeno, una pratica che è arrivata anche in Italia diciamo su due livelli. Dal punto di vista appunto di politico è stata creata una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che poi in questo processo di localizzazione e coerenza e coesione delle politiche pubbliche è stato localizzato in 14 strategie regionali e due strategie provinciali e anche sei agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile. In questo processo sviluppato soprattutto dal Ministero dell'Ambiente sono stati creati dei gruppi di lavoro per condividere feedback e esperienze e anche dei gruppi tematici ad esempio per affrontare delle questioni trasversali e integrate che sono chiaramente molto comuni su quando si lavora sui temi degli SDGs. Allo stesso tempo l'Italia ha anche realizzato 12 VLARS tra cui per esempio la città di Firenze e quella di Roma e da parte di 18 amministrazioni locali e anche due voluntary national reviews che includono anche un capitolo sulla localizzazione degli SDGs l'ultima nel 2022. Ultimamente sono state rilasciate anche delle linee guida nazionali per la creazione delle voluntary local reviews in Italia. Last but not least vi parlerò della una delle iniziative legate alla localizzazione delle Nazioni Unite che è quella del Local 2030 Coalition la coalizione è un'iniziativa che ha l'obiettivo di diciamo lavorare sulla localizzazione soprattutto da un punto di vista di advocacy disseminazione e anche finanziamento a livello dei vari delle varie agenzie UN nei nei paesi negli uffici nazionali e la struttura della coalizione è formata da un segretariato che è basato a Bilbao è stato aperto da poco da due co-shares di cui UN Habitat è quello permanente e di cui l'altro al momento è la FAO e da uno steering committee di cui fa parte anche la società civile il settore privato e governi locali nazionali l'ultima aggiunta l'ultimo organo aggiunto alla Locals 2030 Coalition è il Knowledge and Scientific Network della coalizione che è un'iniziativa che al momento sto gestendo personalmente e in cui anche il CESPI collabora nella figura di Marco e l'obiettivo principale del Network è quello di connettere la ricerca scientifica e la conoscenza scientifica con il processo decisionale per le politiche pubbliche a livello locale e quindi creare delle politiche pubbliche più basate su dati evidenza e conoscenza scientifica il progetto è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e ha due paesi pilota al momento Tunisia e Giordania nelle città di Sus Kerkenna Akava Esfat e Irbit e nel suo diciamo componente più importante prevederà la creazione di un gruppo di studenti di dottorato che farà ricerca a livello locale per supportare appunto i processi decisionali delle città e poi chiaramente anche un processo internazionale di disseminazione di risultati tramite eventi tramite policy paper penso di essere più o meno stato nei tempi vi ringrazio perfetto grazie sia per l'intervento per inciso superato il test in italiano direi direi subito la parola ovviamente liberi di intervenire come meglio pensano mi pare però che ci sia una relazione diretta per la base dell'esperienza del primo intervento di Giovanni Camilleri sul tema specifico della localizzazione di Gisma le sollecitazioni sono diciamo interessanti per coniugare l'esperienza sul campo e lo spazio della riflessione dell'analisi che su questo tema ha avuto modo sia Giovanni Camilleri dicevo con riferimento all'esperienza della localizzazione e poi Raffaella Coletti più sul tema della cooperazione interregionale però ovviamente liberi di intervenire sulla base delle sollecitazioni condivise a te Giovanni grazie grazie Marco dunque io direi avendo sentito questi due interventi una domanda che viene come dire immediata è la seguente dire cosa può fare a fronte di queste complessità che sono complessità sia di carattere come dire di impatto di articolazione di rete di gestione cosa può fare la cooperazione internazionale per vincere queste sfide per avere un impatto su queste sfide se noi partiamo da una realtà che è quella che le leggi dei paesi cosiddetti donanti prevedono lo 07 del prodotto interno lordo per la cooperazione ci viene subito evidente il dubbio che questo 07 anche quando fosse raggiunto cosa che non lo è mai e anche quando fosse ben speso per la realizzazione di progetti che abbiano questa capacità trasformativa di impatto come abbiamo sentito e non saranno mai sufficienti quindi diciamo qual è il modo più come dire strategico di prospettiva per utilizzare lo strumento cooperazione i commenti nessuno ha le ricette ma il commento è quello di dire usiamo lo 07 proprio per come dire attaccare un poco queste complessità quali complessità beh nell'intervento di Aldo abbiamo visto questa ricerca questa volontà di cercare dei quadri di riferimento che rappresentino la possibilità per diversi attori di operare su obiettivi comuni questo è molto complesso perché richiede anche tutta una serie di strumenti tutta una serie di acquisizioni di capacità perché noi con una parola diciamo approccio multilivello come abbiamo poi sentito da Pietro e che evidentemente personalmente ma credo che ormai nella letteratura nella pratica di tutti coloro che si occupano sia di cooperazione sia di sia di cooperazione cioè di bambino si è svegliato quindi mi ha fatto notare dove abbassare la voca alla clara sia di cooperazione che di sviluppo devono acquisire cioè il multilivello non si risolve non è una risoluzione semantica della questione vuol dire come si articola la quella che è la gestione locale la programmazione locale con un livello intermedio che è quello delle regioni che cambia da paese a paese ma è un livello intermedio con una politica nazionale e a sua volta con un'agenda globale ecco questa complessità del multilivello che strumenti ci sono per affrontare queste complessità quindi è importante che la cooperazione si certamente focalizzi non solo il progetto ma la buona esecuzione di un progetto espressione di una programmazione comune tra i diversi attori che è facile dirlo e più difficile realizzarlo ma ma che che questo progetto come dire sia l'espressione proprio di questo processo io ho chiamato quadro di riferimento si può chiamare piattaforma e tutto e questo direi che è un primo elemento così diciamo di discussione un secondo elemento di discussione è quello di nella pratica quotidiana di dover superare determinate modelli organizzativi che paradossalmente sono separati a cosa mi riferisco mi riferisco che in tutti i paesi chi più chi meno sia a livello di amministrazioni sia a livello di organismi di associazioni organismi e tutto c'è chi si occupa di nazionale di locale e poi c'è l'ufficio il dipartimento che si occupa di cooperazione internazionale di solito cosa succede che i soggetti che si occupano di sviluppo locale nei paesi e che hanno un po' quell'esperienza del know-how appunto degli strumenti di cui facevo riferimento prima e non sempre sono in linea con l'ufficio che si occupa di cooperazione internazionale che è più attento alle call alle vacan ai progetti a vedere quale progetto si riesce a presentare entro determinate scadenze con determinate formule e tutto e questo è un qualcosa che limita uno dei valori aggiunti della cooperazione che ripeto non è tanto i fondi perché è più che altro come quello 07 o quello che è riesce a influenzare il 99.3 dei budget nazionali rispetto agli obiettivi così complessi sia in termini tecnici amministrativi e finanziari che l'agenda 2030 ci pone quindi la localizzazione e concludo perché io il senso di questi commenti è buttare lì un po' di elementi critici di riflessione e non di svilupparli evidentemente l'agenda 2030 e la sua localizzazione secondo la mia esperienza è questo che vuol dire cioè non tanto cosa facciamo a livello locale rispetto all'agenda 2030 poi c'è il livello intermedio anche noi abbiamo fatto qualcosa diventa quasi una bandiera dove ognuno dice noi anche noi abbiamo fatto qualcosa no la grande sfida è che se le agende locali i piani locali di sviluppo per chi si occupa di gestione territoriale riescono a essere in linea sia a quei livelli intermedi e influenzare le politiche nazionali o all'inverso diciamo coniugare le politiche nazionali con le priorità locali ma sempre alla luce dei 17 obiettivi io ritengo che questo sia il miglior modo di interpretare la localizzazione credo che con questo ho fatto i 5 minuti e mi fermo qui dico bene? grazie benissimo Giovanni grazie per la sottolineatura del complessità pratica di tradurre il riferimento al multilivello il richiamo a quella separazione che pure Pietro richiamava silos diventa centrale quando diversi attori anche della stessa amministrazione si occupano di SDGs da una prospettiva diversa la suggestione interessante soprattutto per una campagna internazionale sullo 0,7 0,7 sì soprattutto come influenzare con lo 0,7 il restante 99,3 e poi l'ultimo invece chiarimento punto di vista su come declinare realmente la localizzazione e non farne solo una bandiera locale darei la parola a Raffaella che ha il compito diciamo di fare da ponte tra gli interventi programmati e poi lo spazio degli interventi da parte dei vari partecipanti grazie Raffaella grazie grazie Marco grazie dell'invito sarò molto veloce anche io sì come dicevi io mi occupo molto di cooperazione trasfrontaliera cooperazione territoriale da vari anni e in varie posizioni nel senso che mi sono occupata anche più direttamente dei programmi ma prevalentemente diciamo ho fatto ricerca su questi temi diciamo che alcune tematiche insomma chiaramente accomunano noi due interventi il tema appunto che è stato già ripreso anche da Giovanni Camilleri della governance multilivello il tema del ruolo delle autorità locali regionali e da questo punto di vista è chiaro che la cooperazione diciamo alle frontiere esterne quella di cui parla Aldo Aldo ha ricordato che il programma è giunto alla sua terza edizione diciamo che appunto prende spunto dai programmi Interreg che ricordo esistono dal 1990 quindi da moltissimi anni già più di trent'anni e che dal 2007 diciamo si sono aperti in maniera strutturale anche le frontiere esterne dell'Unione Europea c'erano anche prima le frontiere esterne ma erano diciamo avevano meccanismi di finanziamento diversi e quindi di fatto erano meno efficaci invece dal 2007 questa cosa è diventata realtà e chiaramente si sono inseriti nel solco della cooperazione decentrata diciamo anche perché in una fase in cui si andavano riducendo le risorse invece appunto delle regioni per la cooperazione decentrata allo sviluppo cosiddetta quindi quella portata avanti con le risorse appunto delle regioni e diciamo delle istituzioni locali sono andati a costituire uno spazio in cui soprattutto con i paesi che partecipano a queste forme di cooperazione diciamo privilegiato se non esclusivo poi alla fine infatti mi ha colpito il dato che ha fatto vedere Aldo sulla partecipazione anche delle organizzazioni non governative che si appoggiano anche a questo a questo tipo di programmi io rispetto a questi programmi vorrei dire tre piccole cose quelli che per me sono i principali punti di forza quelli che sono i principali punti di debolezza e poi una piccola riflessione diciamo sullo stato attuale e sul futuro sui punti di forza secondo me diciamo l'elemento principale è proprio questo discorso che diciamo dei benefici comuni del rapporto un po' se vogliamo su basi equal footing per usare appunto l'espressione inglese tra i diversi soggetti che siedono a questi tavoli che normalmente non accade nella relazione dell'Unione Europea col suo vicinato è l'Unione Europea con il paese terzo invece in questi programmi Aldo lo può testimoniare e anche io per aver partecipato a diversi comitati di sorveglianza sia nei comitati di sorveglianza sia nei progetti c'è un vero rapporto diciamo così paritetico e questo è prezioso e abbastanza raro e tra l'altro anche un altro carta che diciamo un altro grafico che Aldo ha fatto vedere che secondo me è significativo è la presenza di lead partners non solamente appunto da paesi della sponda nord ma in maniera crescente da parte dei paesi della sponda sud che diventano proprio acquisiscono la ownership diciamo in qualche modo di questi progetti no? E diciamo questo secondo me è molto interessante un altro aspetto molto interessante è un po' e questo porta con sé un po' il superamento della logica dell'aiuto no? Per il vero partenariato perché si decidono insieme un po' le priorità e questo crea anche diciamo il fatto che anche da un punto di vista proprio di rappresentazione che il programma offre l'enfasi è sulle somiglianze non sulle differenze l'esempio del progetto che Aldo ha portato ma anche tutto il lavoro che è stato fatto nel 14-20 sui NEIT no? Sui giovani appunto che non lavorano e non sono neanche alla ricerca del lavoro non sono informazione fa vedere le similitudini tra i problemi che noi ci troviamo a affrontare diciamo nel Mediterraneo e questo secondo me è una componente molto importante e l'ultimo elemento che voglio menzionare è quello che poi si collega di più anche alla presentazione di Pietro Ceppi cioè l'elemento diciamo della localizzazione che noi chiamiamo appunto del place based non nei programmi interreg nella politica di coesione cioè partire anche proprio dai luoghi per definire le strategie punti di debolezza beh innanzitutto è chiaro che sì parliamo di ownership di partenariato ma stiamo sempre parlando di priorità definite diciamo nell'ambito della politica di coesione che è chiaro che riflettono un diciamo macro priorità anche quelle relative agli obiettivi di sviluppo sostenibile però sono pur sempre definite diciamo a livello di politica di coesione europea e vengono poi diciamo applicate nel bacino del Mediterraneo e questo diciamo di nuovo ci riporta ci sbilancia di nuovo un po' no? Il fatto caldo diciamo così è che questi progetti spesso finanziano esperienze molto interessanti ma è chiaro che se si limitano all'elemento progettuale e non diventano polisi l'impatto è limitato e questo è un po' poi il tema che riportava Giovanni Camilleri sulla difficoltà di poi mettersi realmente d'accordo sulle priorità al di là del singolo progetto perché il tema è che devono diventare diciamo mutamenti strutturali per essere poi realmente efficaci e poi ovviamente il fatto che insomma essendo politiche decentrate rispetto poi soprattutto al Mediterraneo si occupano di alcuni temi ma non hanno competenza su altri mi riferisco chiaramente in particolare all'elefante nella stanza che è il tema delle migrazioni che questi programmi non possono e non affrontano e va bene così ma diciamo la compartimentazione poi dei problemi non ci aiuta a trovare delle soluzioni chiudo su due elementi diciamo sul presente e sul futuro il primo elemento è che è chiaro questi programmi come dice Valdo siamo alla terza edizione dal 2007 sono cambiate alcune cose ma è chiaro che c'è una logica di continuità nelle politiche pubbliche anche in quelle europee dal 2007 oggi è cambiato il mondo è cambiato il mondo in generale è cambiato il mondo alle frontiere esterne sia diciamo est sia del Mediterraneo e quindi secondo me è interessante sottolineare come il senso poi in fondo di questi programmi sia un po' cambiato forse direi sono ancora più rilevanti oggi nel senso che nel 2007 erano concepiti come uno degli strumenti per l'avvicinamento del vicinato europeo oggi sono degli strumenti che consentono veramente spazi di discussione e condivisione in un mondo sempre più complesso con il ritorno della guerra in tutto il nostro vicinato purtroppo e il secondo elemento con cui voglio chiudere è che abbiamo parlato moltissimo di multilevel governance abbiamo parlato moltissimo di place based di localizzazione sono tutti temi importantissimi che noi in qualche modo stiamo dando per scontati sì sono scontati però vorrei anche diciamo sottolineare come il ruolo delle regioni nella cooperazione in generale anche nei programmi di coesione ma non solo è anche figlio di un'epoca quella degli anni novanta in cui siamo andati verso questo regionalismo anche a seguito del fallimento di altre forme di politica di sviluppo ecco tutto questo tema è un po' di nuovo in discussione no anche diciamo io ovviamente mi occupo più di politiche di coesione in questa fase professionale più che di politiche di cooperazione però diciamo che il place based è chiaramente riconosciuto ma c'è anche una spinta verso ci sono anche nuovi modelli più centralisti mi riferisco in particolare alla gestione del PNRR e c'è una discussione su questo aperta su quale sia il modello più corretto quindi diciamo secondo me è importante tenere presente questo nel senso che se siamo convinti io personalmente lo sono del valore del place based è importante che non lo diamo per scontato perché in realtà diciamo almeno in ambito di politica di coesione c'è una discussione aperta sul futuro ecco che anche se non riguarda direttamente il place based ma in qualche modo diciamo non c'è niente di sicuro ecco sul futuro chiuderei su questo grazie molto grazie molto per l'efficacia degli spunti sintetici ma densi sia di punti forza debolezza che queste due osservazioni che hanno gli ultimi due interventi hanno un po' letto in una chiave alta di riflessione strategica no? questo è l'approccio c'è molta concretezza si parlava di progetti quindi diciamo mi pare che si prestino a interventi riflessioni da diversi punti di vista quindi sono benvenute le osservazioni interventi si può vedo già sollevata la mano di Francesco Petrelli sì quindi prego grazie per intervenire quindi sufficiente indicarlo lì come ha fatto Francesco Petrelli con la manina alzata prego Francesco sì sì intanto grazie vi ringrazio il CESPI tutti coloro che sono intervenuti perché sarà una boccata d'ossigeno in tempi in cui si respira poco e le due cose che vorrei dire sono su questo allora la prima come generazione cooperazione che è un programma come sapete alla campagna 070 vorrei dire a Giovanni Camilleri sì noi della campagna 070 intendiamo questa campagna esattamente come un attacco cioè come un modo non per porre ovviamente quell'obiettivo da 52 anni promesso e mai realizzato da parte della comunità internazionale ma anche come un'opportunità per ragionare il qui ed ora sui temi dello sviluppo e di conseguenza dell'agenda della localizzazione e così via cioè esattamente anche del valore catalitico come si dice in Europa dalle parti di Bruxelles che un'idea di APS che non è un ferrovecchio ma è un punto di attacco per un'agenda trasformativa ancora è al centro di queste discussioni la seconda riflessione che riguarda appunto il respirare noi a me paiono essenziali queste cose e anche il capitalizzare questa riflessione che è figlia degli anni 90 e dei primi anni 2000 ma Barcellona è figlia della cooperazione territoriale anche italiana che poi si è andata non benissimo un altro paio di maniche ma noi oggi abbiamo a che fare con una proposta per chi ha letto le otto cartelle su cui si basa oggi il piano Mattei che è un ritornare indietro in questo dibattito in forme regressive se mi permettete la battuta da da Boomers che sembra di assistere al cartone animato degli antenati con Vilma da Milaclava cioè c'è un'idea di cooperazione legata a stile anni 80 forse se c'è un'idea di questo tipo cioè altro che localizzazione altro che governance multilivello lo dico perché noi ci stiamo esercitando anche per esprimere un posizionamento con Andrea con altri rispetto a quello che abbiamo capito o intuito pur partecipando con le nostre rappresentanze alla cabina di regia di questo fantasmatico piano perché c'è un ritorno indietro rispetto a quello che è stata e che è questo tipo di riflessione che non può prescindere se vogliamo parlare di agenda se vogliamo parlare di una ragionare sullo sviluppo Raffaella nella bellissima cosa che è scritta che io spero che sia diffusa insieme alle slide è la vendetta dei confini ma è l'arretramento culturale delle politiche di sviluppo europee di cui come epifenomeno local nazionale l'idea del piano Mattei su cui comunque ci dobbiamo confrontare perché parla di Africa e di Mediterraneo allora concludo io credo che noi invece dobbiamo rilanciare con questo tipo di riflessione sulla localizzazione sul multilivello con i punti di forza e i punti di debolezza che ricordavate voi tutti e pensando che c'è un next med a cui casomai come dire riempire di questi contenuti di idee di progetti di programmi di ruolo riconfermato della società civile come pilastro attorno a cui produrre un processo trasformativo che mette assieme il locale e il nazionale il nostro piano di sviluppo sostenibile accidenti mi piacerebbe vedere che oltre che a Bruxelles e nella città svedese in cui non mi ricordo ci sia anche una best practice di qualche città magari in media italiana a proposito quindi come dire è un appello scusatemi non ho domande specifiche però questo patrimonio che abbiamo espresso in quest'ora che avete espresso scusatevi da parte nostra c'è la massima disponibilità a continuare condividere e allargare questa riflessione anche per aiutarci e supportarci a dire delle cose rispetto alle sfide dell'oggi affinché non ci riportino a 30 35 40 anni indietro nel dibattito sulla cooperazione e nel rapporto con questa area del mondo dove veramente la regione Marijevic c'è la frontiera di gesso che viene continuamente ristabilita ecco è il luogo della contaminazione e di un'idea di sviluppo che possiamo provare a costruire ecco una grande occasione forse la più grande sfida che l'Europa ha di fronte a sé in una situazione completamente cambiata rispetto agli anni 90 e anche al primo decennio del 2000 quindi grazie e continuiamo che questa sia una prima occasione una prima opportunità grazie a te Francesco c'è Andrea sì grazie Marco innanzitutto ringrazio a Marco per l'organizzazione di questi seminari che trovo anch'io molto che invitano proprio alla riflessione al confronto e io di conseguenza avrei due domande su NextMed e due domande sulla localizzazione SDGs e poi due piccole considerazioni finali e il quadro un po' di riferimento è questo cioè come si è detto questo seminario organizzato all'interno di un progetto di educazione e cittadinanza globale e la cosa interessante in questo caso per me almeno è cercare visto che vent'anni fa più o meno bazzicavo anch'io abbastanza da un lato cooperazione decentrata e dall'altro anche cooperazione territoriale e cercare di capire come questi tipi di cooperazione possono tra virgolette insegnare qualcosa alla cooperazione classica bilaterale dell'Italia per esempio nel Mediterraneo o adesso verso l'Africa eccetera eccetera quindi una comparazione tra la cooperazione bilaterale tradizionale che continua ad andare avanti con i bandi dell'Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo eccetera e dall'altra parte la cooperazione territoriale anche qui è ovvio notare un un silos no? due silos che non si toccano ma che vedono poi molte volte gli stessi soggetti partecipare ai bandi per esempio sono diverse ONG italiane che hanno imparato nel tempo a capire che esiste anche il bando della cooperazione territoriale e quindi partecipano al bando AICS ma partecipano anche al bando di NextMed o che altri cooperazioni allora le due domandine su NextMed la prima domandina sono più curiosità si parla molto di giovani ma il famoso approccio gender la questione donna in particolare in un'area come quella del Mediterraneo del rapporto tra il nord e il sud del Mediterraneo è un tema difficilmente ancora abbordabile e si riesce a fare qualcosa punto di domanda la seconda domanda ho visto che ma già nel passato il settore privato così come anche nella cooperazione dell'AICS per esempio con i suoi bandi for profit viene coinvolto però nel caso dell'AICS c'è molta difficoltà a coinvolgere il settore privato anche perché c'è il limite dell'aiuto di Stato e quindi le imprese a dono più di tanto non possono avere e loro legittimamente fanno i loro interessi e quindi insomma è uno strumento che funziona poco nel caso vostro invece di NextMed la partecipazione concreta del settore privato che non sia quella delle camere di commercio o quelle degli organizzazioni rappresentative del settore privato ma proprio delle imprese in quanto tale poi altre due domandine sulla localizzazione sappiamo che uno dei problemi fondamentali anche delle nostre città delle nostre piccole città italiane ma a maggior ragione quindi anche nella sponda sud del Mediterraneo in Africa è la questione finanziaria cioè poche risorse a disposizione pochissime risorse a disposizione di fronte a dei bisogni enormi e dei diritti che chiedono di essere in qualche maniera affrontati in una slide interessante dove si davano alcune buone pratiche diciamo c'era la parte relativa alla finanza che indicava due esperienze sui bond i green bond ed erano uno in Belgio e uno in Svezia come dire le amministrazioni più capaci e che hanno magari anche un rating finanziario riconosciuto a livello internazionale riescono a finanziarsi sul mercato dei capitali il problema sono tutte le altre città che non hanno questa capacità non hanno un rating riconosciuto e quindi la questione finanziaria come viene approcciata da UN Habitat e la seconda domandina volontari reviews consultazioni eccetera però noto noto sia a livello italiano ma anche internazionale una certa fatica alle consultazioni ormai siamo chiamati la commissione europea addirittura lo pretende adesso anche le istituzioni italiane lo devono fare per forza bisogna fare la consultazione il problema è che alla fine queste consultazioni sembra che servano veramente poco e la gente non è stupida e dopo un po' di anni si stanca di questi approcci qui e quindi come superare la fatica della consultazione e infine le ultime due piccole considerazioni soprattutto per quanto diceva Raffaella che ringrazio cioè ecco una cosa forse che si può imparare che può imparare la cooperazione tradizionale bilaterale da quella territoriale in termini di localizzazione è proprio questa cioè nella cooperazione territoriale i lead partner ci sono sempre più lead partner del sud ora invece i nostri bandi della cooperazione tradizionale sono a guida nordistica insomma lead partner del sud non se ne possono nemmeno non mi sembra che sia neanche possibile questo quindi sarebbe interessante introdurre questa questa possibilità anche nella cooperazione tradizionale e l'ultima nota è sulla quello che diceva Raffaella sulla una tendenza alla recentralizzazione lo si può vedere anche nella cooperazione tradizionale nel momento in cui la moda negli ultimi anni è quella di dire ma basta con i piccoli progetti facciamo dei grandi progetti facciamo il ponte sullo stretto di Messina sono questi i grandi progetti che risolvono tutto e anche questo è un pericolo che è abbastanza evidente insomma o come far sì che i piccoli progetti in qualche maniera siano effettivamente scalabili che questo è l'altro termine ormai in voga la scalabilità punto grazie grazie molto Andrea per spunti e poi per le domande dirette che girerei subito anche perché al momento non mi pare ci siano altre mani alzate c'era quella di Aldo che invito a rispondere anche alle domande di Andrea grazie e poi Pietro grazie Marco intanto vorrei preannunciarvi proprio mi scuso ma alle 17.30 in punto vi dovrò lasciare perché abbiamo l'ottavo round di negoziati con Israele per chiudere questo accordo di finanziamento quindi purtroppo era una riunione non prevista mi hanno chiesto la cortesia quindi dovrò lasciarvi alle 5.30 allora venendo alle domande allora sul gender sicuramente uno degli aspetti che noi prendiamo in considerazione c'è anche nei criteri di valutazione devo dire che nei nostri progetti abbiamo avuto un buon riscontro del coinvolgimento delle soprattutto delle donne che hanno creato anche diciamo anche delle delle start-up interessanti e sono state coinvolte in molti nostri progetti quindi devo dire che abbiamo anche un'ottima un'ottima partecipazione da questo punto di vista in merito al convergimento dei privati allora una delle grosse novità della programmazione 21-27 per tutti i programmi di cooperazione è stata sostanzialmente l'introduzione di un articolo specifico per i programmi di cooperazione internazionale per quanto riguarda gli aiuti di Stato ovvero c'è la possibilità di beneficiare di un'esenzione pari a 2 milioni di euro per partner per progetto per cui qualora le attività svolte comunque fossero passibili di essere rilevanti in materia di aiuti di Stato si può arrivare fino a 2 milioni e 2 in deroga quindi questo è un'ottima cosa che consente i nostri progetti 2 milioni e 2 per partner per progetto non ci arrivano mai perché noi se avete ricordato alle slide abbiamo un massimo di 3 milioni di euro ma di finanziamento il 91 per l'89% però è chiaramente un importo diviso per almeno 3 soggetti provenienti da 3 paesi diversi quindi sostanzialmente quella soia è oltremodo sufficiente diciamo a garantire questa partecipazione noi abbiamo molte imprese anche ai paesi sponda sud in merito invece volevo fare giusto due osservazioni collegandomi a quello che diceva Raffaella che saluto oltre a essere una mia collega di nastra e un'amica e anche lavorato sul nostro programma e la ringrazio anche per un'interessantissima pubblicazione che ha fatto proprio sul nostro programma rilasciandomi anche a quello che diceva Giovanni e quello che è stato detto da Francesco allora il vero obiettivo al nostro avviso al mio avviso perché vediamo quello che avviene nel Mediterraneo innanzitutto c'è da sottolineare due cose la prima la rilevanza che ha assunto il Mediterraneo nel quadro strategico della politica di vicinato nell'Unione Europea fino ad oggi c'è stato un suo sbilanciamento ad est quindi alle frontiere est che è venuto meno nel momento in cui l'attore diciamo strategico per l'Unione Europea ovvero la Russia è entrata in un conflitto con l'Ucraina questo ha comportato la sospensione immediata e ovviamente la impossibilità di attivare per la programmazione 21-27 di ben 5 o 7 addirittura programmi bilaterali o trilaterali che coinvolgevano la Russia la Finlandia ha perso 3 programmi con la Russia ma soprattutto questo ha portato l'Unione Europea quindi la Commissione a guardare a sud alla frontiera sud come la frontiera che poteva effettivamente essere la frontiera dove questi programmi di cooperazione potevano avere senso e questo a noi diciamo ci ha tra virgolette avvantaggiato nel senso che l'importanza che noi non faticavamo a far capire a Bruxelles del partenariato con i paesi del vicinato sud per loro forse Bruxelles è troppo a nord non veniva percepito ma adesso questo aspetto è più che percepito e ci abbiamo proprio i riflettori puntati diciamo perché siamo diventati la testa di ponte che quindi deve dare anche in termini di performance nell'utilizzazione dei fondi e nel raggiungimento dei risultati un segnale diciamo importante al fine di poter continuare con questi esercizi di cooperazione la dimensione locale allora nei nostri progetti la dimensione locale è una dimensione che è assolutamente fondamentale lo vediamo nel coinvolgimento degli attori locali la priorità appunto sulla governance è uno di questi aspetti devo dire che le priorità condivise di cui parlava Raffaella che sono la base ovviamente di quelle che sono le sfide ovviamente dell'Unione Europea ma sono sfide a livello globale sfide sicuramente che vengono condivise con i paesi che stanno adottando la Tunisia per esempio ha adottato recentemente una strategia di sviluppo sostenibile in particolar modo verso la Green Transition che diciamo è assolutamente allineata con quelle che sono le priorità dell'Unione Europea ma quelle che sono le priorità ovviamente nostre in linea con gli SDG che comunque ecco gli SDGs rappresentano un quadro che può facilitare l'allineamento di cui parlavamo prima delle politiche nazionali a livello di sviluppo locale di partecipazione al contributo quindi degli attori locali alle politiche di sviluppo allora noi vediamo sostanzialmente un aspetto che è un aspetto che secondo me va tenuto in considerazione da tutti gli attori della cooperazione cioè quello di riuscire ad avere una massimizzazione dell'impatto a livello locale che alla fine è quello che conta al cittadino quello che rimane sul territorio non è ho versato lo 0,7% del PIL in aiuto allo sviluppo e dove sono andati perché impatto ha avuto sul cambio della vita delle nuove generazioni piuttosto che dei cittadini che lavorano o comunque che vivono nel territorio e questo secondo me è un qualcosa che prescinde dal discorso ovviamente quantitativo meramente quantitativo dell'aiuto perché noi stiamo operando ovviamente un 15 paesi con 263 milioni di euro che per 15 paesi sono niente ovviamente sono 0,0000001% probabilmente se consideriamo che ci sono più di 200 milioni di persone che abitano nelle regioni con cui lavoriamo noi ma la cosa fondamentale è che ed è il messaggio che noi ed è quello che noi stiamo provando a fare è quello di riuscire a sviluppare sinergie con altre iniziative che lavorano nei territori con altri programmi ed iniziative anche finanziate da altri strumenti e da altri attori per cercare di facilitare e di riuscire a coordinare i pochi fondi disponibili per cercare di massimizzare i risultati un approccio chiaro che noi chiediamo ai nostri progetti non ha avuto modo di entrare nella dinamica dei nostri progetti ma ovviamente se volete ci abbiamo anche potete fare riferimento anche a quella che è la guida per la presentazione delle proposte troverete una chiara indicazione noi abbiamo chiesto a chi presenta una proposta di progetto di partire dalla da utilizzare nel senso di sviluppare azioni pilota da subito di risultati che devono essere individuati anche in progetti precedenti anche finanziati da altri cioè noi non vogliamo che dei tre anni di progetto un anno e mezzo venga speso per fare il solito studio di fattibilità per vedere se poi si può realizzare lasciando l'ultimo anno forse scarso alla realizzazione di progetti pilota che sono poi quelli che hanno l'impatto sul territorio quindi partiamo da quello che esiste in molti settori il settore acqua da un punto di vista scientifico non dico che è stato detto tutto ma c'è a disposizione un know-how direttamente applicabile già sviluppato quindi partire dall'applicazione concreta di risultati che magari in altri territori hanno ottenuto buoni risultati applichiamoli in altri contesti vediamo se funzionano e poi facciamo l'analisi per vedere se funziona e come possiamo migliorarli ecco questo è quello che noi stiamo cercando di fare finisco dicendo che una delle strategie che noi abbiamo abbiamo una strategia di comunicazione molto ambiziosa siamo uno dei programmi che ha ricevuto anche un riconoscimento di eccellenza della Commissione Europea ma perché ci crediamo molto perché lo facciamo con passione perché riteniamo che far vedere alla gente quello che si può fare anche con fondi limitati è sostanzialmente un qualcosa che oggi riusciamo a fare anche con mezzi molto economici social banalmente permettono di raggiungere moltissime persone moltissime fasce di età e riusciamo a dare visibilità di quelle cose che facciamo ma il nostro obiettivo è quello di esportare anche fuori dal Mediterraneo quello che riusciamo a fare come best practice nel Mediterraneo ed è il motivo per cui noi ci siamo già da qualche anno approcciati a eventi internazionali di alto livello che consentono di metterci in relazione anche con altri attori siamo stati alla COP27 alla COP28 a Dubai saremo la COP29 a Baku saremo a Doha ad un evento organizzato dal governo Catariota sui giovani per portare la nostra testimonianza sui nostri progetti quindi far conoscere quello che noi facciamo perché se se ne parla se riusciamo sostanzialmente a far vedere che ci sono dei risultati che possono essere presi dai nostri progetti a essere utilizzati in altri contesti anche fuori dal Mediterraneo questa è la vera sfida che può consentire sostanzialmente anche ad altri paesi di poter riuscire a massimizzare i pochi aiuti che abbiamo a disposizione finisco qui e vi ringrazio tantissimo purtroppo appunto vi dovrò lasciare ma un speciale saluto a Marco e un ringraziamento speciale a Marco ma anche a Pietro mi dispiace non poter rimanere ulteriormente però per qualsiasi cosa insomma i miei contatti ci sono mandate pure un'email insomma vi risponderò e avrò un modo anche di continuare qualora ci fosse un follow up di questo interessantissimo dibattito grazie a te moltissimo per aver partecipato e per essere rimasto due minuti in eccesso rispetto a quanto programmato grazie ancora grazie a voi ciao e darei la parola a Pietro se posso una cosa fuori tema che secondo me diciamo c'è questo aspetto importante della cooperazione al di là dell'approccio di fondo perché veniva ricordato adesso la questione della Russia e quindi per necessità maggiore attenzione alla sponda al Mediterraneo però non va dimenticato cioè non possiamo dire il fatto che nonostante le numerose risoluzioni delle Nazioni Unite gli sforzi diplomatici la comunità internazionale non è riuscita a fianco dei paesi coinvolti a contribuire in modo efficace a risolvere il conflitto israelo-palestinese è una misura dell'incapacità del sistema internazionale è nella comunità internazionale dei 193 stati membri ancora oggi 143 riconoscono lo stato della Palestina ultimi in ordine di treppo tre paesi dell'Unione Europea altri tre paesi dell'Unione Europea stanno discutendo se e quando riconoscerlo con il blocco gli Stati Uniti e molti paesi occidentali che non lo riconoscono e dall'altra ci sono 163 paesi non 193 che riconoscono lo stato di Israele il primo furono gli Stati Uniti nel lontano 1948 perché dico questo? perché ovviamente il fatto che l'unica la leadership degli Stati Uniti è non un ruolo altrettanto proattivo di altri attori globali come l'Unione Europea nei difficili processi di pace sapendo che legittimamente diciamo non c'è un'equidistanza degli Stati Uniti una regione di una politica estera che ha storicamente mostrato forte sostegno in termini di aiuti finanziari militari appoggio diplomatico per interessi strategici legami storici culturali quello è un problema è l'Unione Europea diciamo non con la cooperazione e lo sviluppo ma complessivamente in questo hard e soft power interagiscono quindi diciamo non va in uso un problema degli strumenti in mano agli attori che contribuiscono alla governance globale ad affrontarlo cioè si è parlato di Russia è tutta altra questione però è ovvio che diciamo interroga non solo la cooperazione sviluppo non solo l'approccio territoriale o meno ma c'è questo bonus profondo che coinvolge le diverse forme di cooperazione che non c'entra direttamente con le risposte diciamo alle interessanti domande quindi do la parola a Pietro grazie Marco comunque sono d'accordo con questo intervento allora per tornare sarò veloce alle due domande secondo me sono anche comunque collegate tra loro e la risposta diciamo è legata al tema del sviluppo delle capacità cioè perché le città europee riescono ad avere i bond per finanziare le politiche sul clima e quelle nel mondo dello sviluppo no perché fondamentalmente le città europee hanno una forse credibilità maggiore stabilità che permette loro di attirare questo tipo di investimenti e finanziamenti noi lavoriamo appunto sul rafforzamento delle capacità tecniche dei governi locali così che o digitalizzazione ad esempio dei governi locali così che siano in grado speriamo in un futuro breve di creare degli strumenti simili allo stesso tempo la capacità cioè lo sviluppo delle capacità è anche importante per la questione delle consultazioni o comunque per il dare voce agli attori locali una una cosa per esempio tornando al caso di Muanza della della città in Tanzania la richiesta di lavorare con Muanza è comunque arrivata dal livello nazionale dall'interazione col governo nazionale della Tanzania che è venuto diciamo in consultazione con UN Habitat ha espresso questo problema di coordinare coordinarsi con le città come portare alcune delle priorità che sono evidenziate a livello nazionale a livello locale e chiaramente lavorando nel rafforzare e comunque il dialogo anche con le città è importante per 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 collegare i due livelli e per fare questo serve un un rafforzamento del capacity building su tutti i temi che vanno da budget locali a non so appunto questione di genere a pianificazione urbana eccetera eccetera un altro un'ultima cosa che è un altro strumento che abbiamo e di cui non ho parlato oggi è quello del localization marker esiste un marker creato cioè quindi una specie di ranking che viene dato ai progetti ai proposal creato recentemente da da UN Habitat dalla local 20-30 coalition che va a valutare quanto un progetto sia in grado di fare localizzazione e esiste una sezione apposita per esempio nel joint SDG fund che va a finanziare progetti di localizzazione e che finanzi i progetti solamente se raggiungono un determinato punteggio in questo localization marker chiaramente questo è un modo speriamo non sia solamente diciamo un esercizio sterile ma tra l'altro alcuni di questi localization markers sono io a doverli valutare e vedo che comunque i progetti sono veramente fondati su questi principi delle consultazioni con le comunità con i governi locali con altri attori della società civile e anche nel diciamo nei risultati nella ricerca di una sostenibilità dopo la fine del progetto sono tutti elementi che vengono presi in considerazione e che i progetti devono rispettare quindi ecco a volte sì sono faticose però servono e meglio comunque farle e controllarle che non farle grazie grazie anche per questo richiamo al marker nel senso che un precedente webinar era su altro argomento ma legato proprio ai marker quindi è un argomento che probabilmente interesserà diversi dei partecipanti quindi può essere anche un argomento su cui chiederanno poi maggiori informazioni e dettagli e io lascerei vedere c'è qualche ultimo intervento sia domanda o semplice curiosità o osservazione conclusiva Marco se posso aggiungo una piccolissima cosa su quello che ha detto Andrea molto piccola sulla questione diciamo della fatica della consultazione che è un tema appunto importante secondo me chiaro che non c'è una risposta semplice il tema è che la consultazione di per sé più ampia nasce per rispondere al fatto secondo me che la rappresentazione è molto limitata se abbiamo sempre le stesse persone che siedono rappresentano l'ente però diciamo l'aspetto secondo me necessario è poi quello della comunicazione del reale coinvolgimento della cittadinanza questo per qualsiasi politica diciamo così di sviluppo ribadisco anche nell'ambito delle politiche di coesione perché altrimenti le persone diciamo non partecipano o partecipano sempre ai soliti e non raggiungiamo i risultati sperati quindi secondo me comunicazione e da questo punto di vista se ho capito bene il funzionamento di questi gruppi di volontari di cui parlava Pietro non sono sicura se ho capito bene che fanno reporting ma diciamo mi sembra questi diciamo questi reporting volontari mi ha ricordato un po' l'esperienza di quello che si fa con la coesione con monitoraggio civico dei progetti di coesione cioè cercare di capire e quindi coinvolgere la cittadinanza secondo me può essere un po' la ricetta ecco per superare questo questo tipo di problema Marco c'è Mauro Montalbetti vuole intervenire prego prego volevo fare una domanda nel senso che tutto bene però ritornando alla slide iniziale su DG rimane quella quella slide iniziale che è stato raggiunto il 12% degli obiettivi allora questo non è un tema che varrebbe la pena sulla quale varrebbe prima riflettere con più spazio tempo e ponderazione perché a me piacerebbe capire dove sono stati raggiunti questi 12% perché se dal punto di vista e lo dico nell'ignoranza se dal mio punto di vista di ONG scopro che questi obiettivi sono stati raggiunti o questo 12% è stato raggiunto solo nei paesi del nord del mondo e su temi che non hanno a che fare principalmente con la cooperazione e lo sviluppo forse mi chiedo se noi dobbiamo andare avanti con questo quadro come è stato definito dal relatore precedente cioè se le politiche a torto ragione non rientrano in questo quadro e le politiche stanno andando in tutt'altro versante ha senso continuare nel riproporre questo quadro di lettura e questi obiettivi abbiamo cominciato io personalmente ho cominciato a occuparmi di queste cose che c'era l'agenda allo sviluppo di Butrus Galli poi sono diventati Millennium Gold poi adesso sono gli SDG abbiamo avuto l'agenda 2030 quindi probabilmente ci sarà un'agenda 2080 20100 cioè mi chiedo se a un certo punto non valga la pena tirare una linea e dire ma ha senso proseguire con questa chiave di lettura punto quindi è importante sapere dove sono stati raggiunti sì dicevo grazie ovviamente questo ci porta ad aprire un altro tema che in realtà è sicuramente diciamo almeno gli organizzatori anche la l'iniziativa stessa può cogliere l'importanza di diffondere maggiori informazioni rispetto a questi che sono dati disponibili cioè rispetto a dove si sono il report annuale delle Nazioni Unite per esempio il primo che indica dove si sono raggiunti per obiettivo target e quindi anche con una premessa che prova a dare una spiegazione può essere un argomento questo su cui diciamo ragionare come pure mi piace diciamo il richiamo che ha fatto anche prima Andrea e poi Raffaella al tema del queste consultazioni mi pare interessante da questo punto di vista dal punto di vista più di diciamo di approccio alla alla sfida come anche la riflessione teorica su questo si stia molto irrobustendo segnalo il lavoro che è stato portato avanti nei Paesi Bassi da un gruppo di ricerca proprio sui modelli di partecipazione che sono stati sperimentati anche in Italia all'Aquila e dall'altra parte la cosiddetta Citizen Science for Policy Making che è un filone che cerca di rispondere proprio a quei punti critici che venivano sollevati quindi fortunatamente diciamo c'è una riflessione anche su questo che si ancora direttamente poi alle applicazioni ma è un nodo centrale quello della stanchezza e lo cogliamo anche diciamo e lo sa bene anche Andrea anche in altri ambiti pensiamo semplicemente a tutto il tema degli immigrati bombardati da continue interviste le stesse persone diciamo c'è un problema quindi di capacità di cogliere il modo giusto per dare realmente è un ritualistico non è che è una stanchezza per chi si è stanchi in sé io potrei andare avanti benissimo ma che abbonda la narrazione è retorica rispetto alle certo diventa ritualistico esatto va benissimo quindi diciamo se non ci sono altre osservazioni con richiesta in diretta di organizzare poi un evento sul Andrea Francesco diciamo come progetto su questo sull'ultima sollecitazione cosa non funziona soprattutto e perché che poi si presta il fianco a una critica appunto ma che pensate di essere voi programmatori falliti del futuro rispetto alla necessità di togliere no provocatoriamente lo ribalta rispetto alla necessità di non porsi degli obiettivi che diano un orientamento Mauro fa sempre delle domandine facili facili devo dire ok se Giovanni voleva dire qualcosa di conclusione di battuta conclusiva beh più che battuta conclusiva un commento intanto un caro saluto Francesco che non ci sentivamo vi davamo a tempo però sui due punti io vorrei dire il senso dell'agenda 2030 il senso degli otto obiettivi il senso diciamo di un'azione internazionale come dire riunisce un po' tutte quelle complessità di cui a diversi livelli ognuno ha parlato e soprattutto che il dibattito conosciamo diciamo ora lì si tratta un attimo allora per esempio sugli otto obiettivi del millennio ci sono dei risultati io considero molto significativi e credo che li puoi vedere sul sito Nazioni Unite si trova se no io posso mandare dei documenti a Marco che sintetizzano un po' che cosa vuol dire vuol dire che allora va bene no non vuol dire che allora va bene vuol dire che un'azione come dire politica strategica come dire può essere necessaria per contrastare determinate tendenze per avere un'alternativa laddove poi si riesca come dire a praticare e tutto quindi è un po' come dire e chiudo è un po' come dire che c'è la stanchezza a parlare di sviluppo sostenibile può darsi perché sono 30 anni che si parla di sviluppo sostenibile allora dato che non si è raggiunta questa sostenibilità allora lasciamo perdere invece io credo che chi si occupa di sviluppo sa perfettamente che è condannato o condannata inevitabilmente come dire avere un'azione propositiva un'azione concreta dico io però un'azione propositiva rispetto a tendenze scoppia una guerra di qua e di là e saltano come dire lo abbiamo visto in altri termini col covid in diversi paesi ci sono degli obiettivi poi arriva un fattore come dire non previsto e tutto regredisce ma allora non è che quella è una giustificazione per dire vabbè ma allora questo non serve niente io penso che se si parla di sviluppo se si parla di dialogo cambiando completamente tema dialogo interreligioso mai c'è stata tanta polarizzazione allora cosa facciamo lasciamo perdere perché il dialogo non ha funzionato ecco in questo senso e sono comunque come dire capisco perfettamente questa questo dubbio non è che come dire viene da niente anzi penso che questi siano argomenti per continuare grazie Giovanni grazie a tutti i due punti mi sembrano diversi uno era quello dell'affaticamento di cui parlava Andrea rispetto alla partecipazione frustrata dal modello ritualistico di coinvolgimento che non si traduce in cambiamento altro è invece questo del darsi degli obiettivi dell'orizzonte verso cui tendere e che hanno come alternativa quella appunto che è la rinuncia a definire una strategia e degli obiettivi verso cui tendere che poi si misurano con le difficoltà le voci critiche sono quelle di dire se sono tutti responsabili nessuno è responsabile quindi nessuno si impegna realmente scarica le responsabilità sugli altri o sull'imprevisto imprevedibile del momento sia essa la guerra o la pandemia da covid-19 ciò non toglie che come mi sembra intendessi Giovanni l'idea è quello di fissare un orientamento verso cui tendere che implica la capacità di costruire una resilienza che magari del sistema nella sua interezza per muoversi in quella direzione l'altro problema di fondo che poi hanno anche e che si lega in qualche modo anche ad altri temi su cui le organizzazioni della società civile sono particolarmente sensibili ma anche il tema della coprogrammazione coprogettazione rimandano a questo tema di un modello di approccio partecipativo che rischia di essere dicevo prima ritualistico e non in grado invece di incorporare realmente le voci nella definizione di un processo di trasformazione però sono entrambi punti centrali su cui sicuramente non solo vale la pena riflettere ma trovare occasioni di confronto come questa ringrazio tutti i partecipanti penso saranno messe poi a disposizione slide e forse anche per chi volesse la registrazione e i documenti che sono stati indicati grazie a tutte e a tutti grazie mille